...fuori vediamo quel quadro che cammina così ...cocmina così, ciao Sera, sera 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 Cioè le ho dette non è una galleria, ma non perché non voglio Ci sarà il quadro, cioè ve li hanno donato, tre del Coira e uno, quello della scuola materna, si occupa i bambini l'anno scorso, nel progetto di educazione civica, sì, e quindi praticamente adesso quando sistemiamo, es unquote, quello messo, come l'anno domani possiamo hier, ma di oggi è stato un posto di posto di città, eh, c'è spesso, e vediamo. No, vabbè, ma quello vedete, ma ci ci deve girare, ma adesso fa un peggioarmi i'micilesi, aspetta un attimo